Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria di Sant'Antonio Abate Sant'Antonio nacque in Egitto nel 251 da nobili genitori ricchi e timorati di Dio i quali si presero cura di educarlo cristianamente A soli 18 anni rimase orfano rimanendo egli custode di una piccola sorella e possessore di considerevoli ricchezze La voce di Dio non tardò a farsi sentire Era orfano da appena sei mesi quando in chiesa sentì leggere le parole di Gesù al giovane ricco Se vuoi essere perfetto, vendi quanto hai e dallo ai poveri così avrai un tesoro nel cielo poi vieni e seguimi Antonio prese quelle parole come dette a lui andò a casa, distribuì le sue sostanze ai poveri riservandosene solamente una piccola parte per sé e per la sorella Poco dopo, avendo udito in chiesa le parole di Gesù non datevi pensiero per il domani diede ai poveri anche il rimanente pose la sorella in un monastero di vergini e lui stesso si ritirò a fare vita penitente nel deserto Ma il demonio non poteva sopportare tanto ardori di perfezione e cercò tutte le maniere possibili per distoglierlo dal suo intento Ma Antonio si raccomandava caldamente notte e giorno a Gesù pregava incessantemente e accompagnava le preghiere con rigorose penitenze Dopo un po' di tempo chiese ad un amico di portargli ogni settimana qualcosa da mangiare e si inoltrò nel deserto prendendo dimore in una grotta Qui il demonio ricominciò a tendergli le sue insidie ed una volta venne e lo percosse tanto che egli fu vicino a morirne Ma egli continuò a pregare e a cantare il versetto del Salmo 26 Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia E al demonio poi ripeteva le parole di San Paolo Nulla mai potrà separarmi dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore Il suo desiderio era quello di isolarsi ancora di più ma furono tante le richieste che alcuni li fecero per essere suoi discepoli che egli li accettò ed essi incominciarono ad abitare vicino a lui Ai suoi discepoli il santo raccomandava continuamente la preghiera continua la perseveranza, la custodia del cuore, l'esortazione vicendevole la pratica delle virtù e il ricordo quotidiano dei novissimi Sant'Antonio Abate, si può dire, è il santo delle tentazioni il santo che ha subito continuamente gli assalti del demonio ma ne riuscì sempre vincitore Il demonio lo tentava in tutti i modi anche in quelli più sottili apparendo come angelo di luce Ma Sant'Antonio aveva acquisito un'abilità e un lume particolare per riconoscere gli attacchi del nemico Egli ripeteva una frase che si può definire come una sintesi della dottrina sul discernimento degli spiriti ovvero su quella dottrina che insegna a distinguere le ispirazioni di Dio dalle tentazioni del demonio Questa frase è la seguente Tutto ciò che turba viene dal maligno In poche parole, Dio parla sempre nella pace del cuore Sant'Antonio Abate morì il 17 gennaio del 356 all'età di 105 anni Nel giorno della sua festa tradizionalmente si fanno benedire gli animali domestici Molti lo invocano, tra i vari motivi anche contro i morbi contagiosi Dunque invochiamolo con fiducia in questo tempo così difficile Sant'Antonio Abate diceva I demoni invidiano noi cristiani ed escogitano di tutto per ostacolare la nostra strada verso il cielo per non farci arrivare lì da dove sono caduti loro Pertanto è necessario pregare molto e praticare l'ascesi in modo da ricevere dallo Spirito Santo il dono di discernere gli spiriti L'arma potente contro di loro è una vita onesta e l'incrollabile fiducia in Dio Se dunque vogliamo disprezzare il nemico ricordiamo le grazie del Signore e la nostra anima sia sempre lieta nella speranza E ora cari fratelli e sorelle terminiamo con una preghiera Gloriosissimo Sant'Antonio esempio luminoso di penitenza di fortezza cristiana ardente di zelo per la salvezza delle anime e di carità per il bene del prossimo voi che otteneste da Dio la speciale virtù di liberare l'aria la terra, il fuoco e gli animali da ogni morbo e da ogni malefica influenza fate che con una santa vita imitiamo le vostre eroiche virtù e che anche qua giù in terra sperimentiamo il vostro valevole patrocinio ricevendo copiosissime le vostre benedizioni su tutto ciò che serve per la nostra vita Amen Sant'Antonio Abate prega per noi Grazie a tutti